Ma io fa una consegna, solo una valigetta, che ha portato l'amico Ruoport, cosa c'è dentro? Sì, e ti voglio, quello che ci rende la valigetta, a te non te ne fai, hai saputo solamente, che se non ci fai il tuo tempo stabilito, la vita tua sarà mia, ti ho spiegato. Quanto tempo avrò? O meno possibile. Mi servirà una macchina veloce. Ah, una macchina veloce. Avete sentito la macchina veloce? Eh va buona, va buona. Te che ti ha la macchina veloce? Ma voglio non pazzia. Questa è l'unica maniera che attiene, perché non ce la ribbete, e te la fa rende a merda così sprofondata. Haigavida. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.